Infatti il verbo di Dio fatto uomo ha posto la sua tenda in mezzo a noi, perché dalla sua pienezza potessimo attingere grazie e verità. Un applauso! Questo emporio vuole eservire le famiglie in momentanea situazioni di difficoltà. L'abbiamo potuto realizzare grazie ai fondi della CEI all'8x1000. Tutti noi passando di qua possiamo aprire gli occhi e porre un'attenzione sempre maggiore nei confronti di chi ci sta vicino. L'emporio si reggerà sì grazie ai fondi della Chiesa, ci auguriamo anche delle istituzioni, ma anche grazie alle donazioni di tempo, di disponibilità e alle donazioni anche di materiale. Questa è una casa, è una casa della Caritas, quindi una casa del Vescovo e della Diocesi per aiutare le persone, per farle camminare, per renderle più libere. E con questo spirito che oggi con grande emozione, pensando a uno che veramente ha amato tanto questa città e la nostra Diocesi, a Enzo Chialesi, che è fautore della Caritas, diamo il Dio e l'attività di questo servizio.